bello 3 sono sempre io e oggi siamo su press x not die questa versione a questo giocando una demo quindi non so quanto durerà questo video in poche parole un gioco interattivo live action che non è animato ma diciamo è come se fosse un film interattivo iniziamo difficoltà media dai buon salve buongiorno ciao matt quello sarebbe even il giorno vedi capito attenzione zio c'è la tipa dietro attenzione premix premix che bucio de culo e niente è morto lo zio ciao no dai non ho premuto x in tempo matt 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 signor matt e niente è morto il signor matt ma perché salutare un gattino in questo momento chiamala vediamo che ti dice sta cristina stai bene beh diciamo che qualcuno ha ucciso matt che cacchio vuol dire che è fan di twilight e cosa e niente è morto il telefono bene ti hanno hackerato mi sa che devo premere e per mettermi la giacca c'è se non lo primo non lo metto la giacca vabbò buon salve che chiudile la porta chiudile in maniera decente non da spastico ma che ca aiutalo premi f premi f premi f oh questi si che sono pugni da dare premi q e madonna le ha dato un calcio dalle parti basse ma non sono altri sono zombie niente non mi vuole sentire il tipo cioè praticamente sono svenuti con un calcio e con un pugno no ma perché scappa così il tipo eh mi sa proprio adesso oh premier premier eh zia non mi puoi colpire col tuo libro possiamo parlarne niente non vuole parlare la zia premi zcc zcc beh lo sto premendo vai scappa scappa premi f premi f come no ho premuto più veloce che potevo bello eh ti è piaciuto un po' di cultura in faccia premi f oh questa volta ce l'ho fatta ho fatto il più veloce possibile ciao zia allora attenzione a non morirme oh siamo arrivati dai almeno la casa della zia siamo arrivati cristina 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 ah cristi oh attento qf madonna che buccio del culo vai premi il cu premi il cu ammazzalo top mi è piaciuta questa mi fa piacere mi fa piacere e sarebbe avvenne il giorno vedi l'ho studiato io eh anyway it's really dangerous outside i died once just getting here and even your roommate just almost killed me wow that's great i'm gonna go take a shower cover me ok but but sei pazza? non c'è tempo it'll be fine just watch the door dobbiamo andare a salvarli niente a lei li piace fare la doccia la cosa più importante bene premi il cu ma io volevo vedere la tizia in bagno bene ve l'avevo detto che era una demo e praticamente finisce qui con la tipa che va a farsi la doccia bene devo dire come inizio non è male bene a sto punto vi dico una cosa se volete che io faccia il gioco completo lasciate tanti like sfondate di like e niente più like avrò e probabilmente porterò il gioco completo detto ciò direi di chiudere qua questo video a sto punto visto che non posso andare avanti spero che in qualche modo vi sia piaciuto se si lascia il like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e su altri social link in descrizione e niente noi ci vediamo alla prossima iscriviti al canale So you know what's going on. I...